Io credo che la fiction televisiva abbia un ruolo anche che può essere definito didattico, nel senso che spesso la messa in scena, per quanto sia chiaramente una narrazione soggettiva della storia, aiuta a percepire soprattutto quelle che sono le dinamiche che si riflettono sul presente, quasi tutte le serie storiche hanno chiaramente un messaggio che si riflette sul presente in cui vengono raccontate e non voglio dire niente di banale dicendo che la storia ha sempre da insegnare qualcosa al mondo in cui viviamo oggi, ma in qualche modo si può riflettere soprattutto sui comportamenti e le abitudini e aiutarci a comprendere meglio il mondo in cui viviamo. Una serie che consiglierei assolutamente è Mindhunter, creata da David Fincher, che è una serie uscita lo scorso anno nel 2017, perché raramente anche al cinema e non soltanto in televisione abbiamo visto gli anni 70, 60 e 70 raccontati con questa lucidità e con questa metaforizzazione della loro portata storica e anche riferita a un genere cinematografico e televisivo che in quegli anni è stato davvero tematizzato, che è appunto la detection story. La serialità televisiva contemporanea ha cominciato a interessarsi in maniera importante del genere western, un genere che è sempre stato nell'immaginario collettivo legatissimo al cinema. L'ha fatto parlando del mito, anzi accantonando la questione del mito che invece al cinema era centrale, e slegandosi dal racconto di uno spazio mitologico per raccontare la temporalità e attraverso la temporalità far passare un messaggio che comprende una lettura della storia sicuramente più soggettivo e quindi anche storiografico.